Questo intervento io volevo cominciare un po' da quelle che sono le nostre radici, la tradizione teorica e politica dell'operaismo, che ricordiamo è una tradizione teorica altamente diversificata anche al proprio interno e caratterizzata anche da molte ambiguità e punti ciechi, come la stessa linea femminista che si è preso le mosse da questa tradizione, l'aveva già dimostrato con forza dai primi anni 70. La consideriamo quindi una posizionalità di partenza con cui interagire con altre tradizioni che vengono da luoghi diversi, da contesti diversi, dalle fabbriche, i territori, le università dell'Italia, insomma da cui comincia la nostra storia. In particolare io propongo che uno degli aspetti che ancora sono importanti per noi è quello del studio militante, quindi l'inchiesta militante sulla mutazione e la composizione di classe nei diversi contesti e dello sforzo di adattarsi per essere dentro alla composizione di classe. E in particolare per l'ecologia, se partiamo insomma dalle nostre origini, nel lungo 68 ci fu tutta la stagione di lotte contro la nocività, prima in fabbrica ma poi su tutto il territorio, che in altri contesti, per esempio le fabbriche metalmeccaniche di Torino, videro un protagonismo per esempio della sinistra sindacale, della FIOM con Ivar Roddone, ma proprio qui da noi a Porto Marghera, dell'operaismo con figure come Augusto Finzi. La composizione di classe di quei tempi è stata però trasformata nella dialettica che si dà fra sviluppo tecnologico e lotta di classe. Già all'epoca Romano Alquati per esempio scriveva come la codificazione e l'incorporazione nelle macchine del sapere previamente clandestino, diceva lui, del lavoro vivo, determina poi traiettorie di sviluppo tecnologico che sono tutt'altro che neutrali ma che sono frutto di una lotta. Ma se pensiamo al giorno d'oggi come l'intelligenza artificiale, come c'è GPT per esempio, succhia in qualche modo il sapere i comportamenti umani tutti i giorni per poi codificarli, incorporarli nelle tecnologie contemporanee e vediamo come questo meccanismo in modi diversi esista ancora. Le traiettorie di sviluppo tecnologico quindi hanno sempre questa ambiguità, questa ambivalenza da un lato, sono concessioni alle lotte, per esempio modificare gli impianti per ridurre la fatica, la nocività in tutti i suoi aspetti. Dall'altro lato però devono riprodurre il controllo sulla forza lavoro e quindi sulla composizione di classe a un nuovo livello di sviluppo. Ogni tecnologia capitalista è insomma una sintesi contraddittoria e provvisoria di questa dualità conflittuale, ma nel sistema attuale per potersi generalizzare deve essere comunque compatibile con l'imperativo del profitto. Per esempio di recente gli operai dell'Electrolux, gli operai e le operaie dell'Electrolux hanno abbandonato le linee per il lavoro in condizioni di calore estremo, dicevano come anche lì le nuove linee dell'industria 4.0 hanno questa ambiguità da un lato di essere ergonomicamente più adatte al lavoro umano, ma dall'altro lato di avere un più alto livello di controllo garantito dai microchip che serve poi ad aumentare i ritmi, mantenendo quindi la nocività ma sotto una forma diversa. Quindi sono cose che possiamo osservare, insomma, molto concretamente qui da noi. Adesso l'azienda per il caldo gli ha offerto angurie gratis, all'epoca Porto Marghera al petrolchimico frivano il latte contro i fumi cancerogeni, ma insomma sono sempre risposte di questo tipo anche qua. Quindi già nel 61 Raniero Panzieri osservava lo sviluppo capitalistico della tecnologia comporta attraverso le diverse fasi della razionalizzazione, forme sempre più raffinate di integrazione, di un aumento crescente del controllo capitalistico. Il rovesciamento operaio del sistema è negazione dell'intera organizzazione in cui si esprime lo sviluppo capitalistico, in primo luogo della tecnologia capitalista in quanto legata alla produttività. Quindi quando oggi, insomma, noi parliamo anche di decrescita, per esempio possiamo trovare qualche aggancio, diciamo, nella nostra storia. Gli esempi della tralotta di classe innovazione tecnologica sono molteplici, dalla catena di montaggio talorfordista, poi alle macchine a controllo numerico, la containerizzazione e più di recente appunto il management algoritmico. Sappiamo che secondo Andrea Smalm il carbone rimpiazzò i corsi d'acqua come fonte d'energia più diffusa a causa del bisogno di mobilità del capitale in un contesto di acute lotte di classe e poi è stato fatto un discorso simile sul petrolio e il gas attraverso la pipeline come tecnologia per aggirare la rigidità di classe della nuova composizione keynesiana-fordista. Tuttavia, questa tendenza, oggi vediamo intanto che tutte queste composizioni riguardavano in particolare il nord globale e la transizione ecologica in corso fa parte di una sussunzione che vede come lo vedeva all'epoca e come questo era sostanzialmente non sufficientemente attenalizzato da queste tradizioni l'estrazione di materie prime per le risorse energetiche di lavoro a bossa costo dalle periferie del sistema mondo se vogliamo usare quel linguaggio. La tendenza attuale, vediamo quindi anche come insomma le lotte di classe servivano poi da volano per lo sviluppo tecnologico, le ristrutturazioni capitaliste e al giorno d'oggi vediamo un'incorporazione parziale delle istanze sollevate anche dai movimenti climatici volta a subordinare le energie rinnovabili e le tecnologie digitali avanzate a una transizione ecologica dall'alto che però mantenendosi all'interno dei parametri produttivisti di crescita infinita, di alta disuguaglianza di classe e a livello internazionale a poco di davvero sostenibile. Quindi la lotta climatica che per noi ha comunque una dimensione di classe viene utilizzata dal capitalismo come elemento propulsore di una nuova fase di accumulazione attraverso anche un ritorno dell'intervento diretto nello Stato nella pianificazione economica pensiamo alle leggi di Biden per incentivare le energie rinnovabili e la produzione di auto elettriche negli Stati Uniti al Green Deal europeo e anche al nuovo ruolo che sta assumendo la Cina indirizzando per esempio in Europa gli investimenti privati però tramite incentivi statali nello sviluppo e nella diffusione di queste nuove tecnologie. Panzeri parlava all'epoca dello Stato piano chenesiano-fordista di un piano del capitale dicendo l'industria reintegra in sé il capitale finanziario e attraverso lo Stato tra parentesi proietta a livello sociale a forma che specificamente ne si assume l'estorsione di plus valore come sviluppo neutro delle forze produttive come razionalità come piano lo stesso tentativo oggi di mantenere le stesse strutture sociali le stesse relazioni di disuguaglianza di mercificazione cambiando semplicemente la tecnologia quindi dicendo che si sta sostituendo i combustibili fossili con le energie rinnovabili si presenta appunto oggi come sviluppo neutro delle forze produttive come razionalità come piano tuttavia alla crisi quello che probabilmente succederà in questa lotta anche fra razioni del capitale capitale fossile e capitale rinnovabile sappiamo che la destra negazionista che insomma è espressione politica del capitale fossile è tutt'altro che sconfitta non è tanto una transizione energetica quando una diversificazione ed espansione energetica dove le rinnovabili non sostituiscono le fonti fossili ma le affiancano di conseguenza la crisi climatica generata dai combustibilitari fossili si aggiunge così il degrado sociale e ambientale provocato dal nuovo estrattivismo verde insomma noi abbiamo detto in diversi luoghi in particolare alle pubblicazioni legate alla lotta della GKN che a questa transizione ecologica dall'alto dobbiamo contrapporre una transizione ecologica dal basso basata sulla demercificazione cioè sulla produzione della ricchezza per soddisfare dei bisogni direttamente non più come merce da contrapporre e il risultato concreto poi dipenderà dai rapporti di forza che noi siamo in grado di costruire poi su questo i compagni francesi mi hanno colto impreparato nel senso che loro criticano proprio il termine di transizione infatti dopo ce lo spiegheranno ad ogni modo insomma è un dibattito aperto ma per concludere il fu Mario Tronti pace all'anima sua deputato del PD più ingombrante della nostra storia all'epoca vide la classe operaia come il motore mobile del capitale parafrasando Aristotele questo schema la lotta di classe è il motore primo dello sviluppo capitalista a un livello molto più profondo dell'energia fossile è resuscitata per mantenere viva per mantenere l'energia viva della classe all'interno dei parametri dell'accumulazione in questo senso il potere della classe lavoratrice oggi nel suo ruolo di sospingere lo sviluppo di tecnologie in grado di mantenere il controllo è diventato in forma perversa benzina nel motore della crisi ecologica ma proprio nella convergenza tra diverse forme di lotta di classe ma che se davvero di classe deve essere anche lotta antirazzista decoloniale femminista e ambientalista che si trovano molteplici possibilità di riformare ulteriormente la tecnologia capitalista ma soprattutto la speranza di pigiare il tasto off per gettare le basi di una produzione della ricchezza attraverso relazioni sociali e anche tecnologie alternative e con questo vi ringrazio e chiudo grazie a te grazie a tutti